5W di nuovo a Fegino, questo non è un buon segno, continuano infatti le proteste degli abitanti che chiedono tempi più stretti per la bonifica. Una bonifica che attendono dal 17 aprile del 2016 quando la rottura di una condotta di Iplom ha causato lo sversamento nei rivi Pianego e Fegino di 680.000 litri di greggio, greggio che poi è finito in mare. Il 4 ottobre in Commissione Consigliare sono stati enunciati i tempi per la bonifica di Iplom, si parla del 2019, dovranno aspettare davvero così tanto gli abitanti di Fegino? Purtroppo questi sono i tempi massimi previsti dalle leggi vigenti, noi chiederemo e abbiamo già chiesto a Iplom, a tutti i soggetti coinvolti, di non stare nei tempi massimi ma di cercare di contenere al massimo i tempi per effettuare i sondaggi e per indicare gli interventi da porre in essere. Naturalmente i sondaggi che sono stati fatti, che saranno avaliati da ARPAL, ci indicheranno se c'è inquinamento o comunque il grado di inquinamento e quindi gli interventi di bonifica da porre in essere. E in questo caso allora quando potrebbero cominciare? C'è una previsione? I tempi massimi sono i primi del 2019 fino al 2018, noi ci auguriamo di anticipare questi tempi fino a dopo l'estate, fino a settembre potrebbe essere una data, non dipende da noi ma dipende dai soggetti coinvolti, i quali però ci hanno già dato una disponibilità a non stare nei tempi massimi e a quindi effettuare queste operazioni nel modo più veloce possibile. Iplom fa attendere da tempo anche il piano di emergenza esterno che adesso dovrebbe essere presentato entro il 9 novembre, c'è speranza che sia davvero così? Da parte dei nostri uffici vi è un pressing su Iplom e chiediamo a Iplom di presentare questo progetto ma soprattutto chiediamo a Iplom di coinvolgere la popolazione che vive intorno a questo impianto, non soltanto nelle esercitazioni esterne che verranno effettuate nei prossimi mesi coordinate dal consigliere delegato Sergio Gambino, consigliere delegato della protezione civile ma anche permettendo a una rappresentanza dei comitati di assistere alle esercitazioni che si effettuano all'interno e su questo c'è stata un'apertura da parte della Iplom. È da tempo che i cittadini chiedono che si mettano delle centraline per rilevare l'inquinamento atmosferico, ad oggi Arpal ha messo i nasi che rilevano i miasmi, secondo lei c'è la possibilità che i cittadini finalmente abbiano queste centraline? Ce l'auguriamo, non dipende principalmente dal comune ma dipende da altri enti ma noi daremo questa indicazione. Sì perché il sindaco tra l'altro comunque è colui che ha l'autorità massima sulla salute dei cittadini quindi in qualche modo potrebbe spingere secondo lei? Il sindaco ha dei poteri in materia sanitaria, è un ufficiale sanitario e quindi in questi termini sicuramente l'azione del sindaco può essere propulsiva ed impulso. Nuova amministrazione, vecchi problemi verranno risolti, ci sarà qualche possibilità per gli abitanti di Feggino? Beh questa è la speranza, noi oggi siamo qua in commissioni proprio in sopralluogo proprio per questo motivo. Ci sono due assessori, ci sono tutti i consiglieri comunali che rappresentano tutte le forze del Consiglio Comunale quindi siamo qua proprio ad ascoltare, a guardare di persona i problemi e Feggino è una delle zone veramente più abbandonate della città con i cittadini che lamentano soprattutto il fatto di non aver avuto mai risposte, di non essere mai stati sufficientemente ascoltati. Mi sembra che da quel punto di vista ci sia quantomeno questa mattina ne è un segnale del miglioramento poi chiaramente un giudizio generale andrà dato più avanti. Bonifica Iplom c'è il rischio che parta nel 2019, ricordiamo che l'incidente è avvenuto il 17 aprile del 2016 c'è un modo per il Comune di accorciare i tempi? C'è un modo per il Comune di monitorare meglio la situazione abbiamo già fatto una commissione convocando anche dei rappresentanti di Iplom i quali chiaramente danno la loro versione dei fatti, danno la loro prospettiva della questione io penso che sia molto importante invece monitorare quotidianamente tutto quello che riguarda Iplom sia per il passato sia per il futuro e noi come Movimento 5 Stelle l'abbiamo sempre fatto e sicuramente continueremo a farlo.